canemacchina e samdaro grande aggancio subito di canemacchina il tiro però da vicino viene parato grande l'avvio di canemacchina che non fa toccare palla a samdaro una conclusione difficile poi la reazione della samp ma il tiro è molto angolato la parata del portiere qui grande occasione ma il tiro è parato la chance di canemacchina diagonale fuori di poco ancora la bella parata di canemacchina che poi si ripete qui con un mezzo miracolo poi errore del portierino a tre minuti della fine dario vince grande aggancio di lotta continua che tira fil di palo la chance però più clamorosa in avvio e per slip united che colpisce l'incrocio dei pali allora legge del calcio gol ha sbagliato go subito in questo bel taglio in esterno di lotta continua che poi preme ancora si ora il gol e poi clamorosa dalla rimessa in offensiva la l'autogol l'autorete di slip united che poi colpisce il palo tetico polis comincia bene un bel match la traversa però lo ferme allora grande conclusione di doping da lontano palo gol l'esultanza di sporting doping la faccia del presidente eloquente e golasso la reazione però di bolis soprattutto nella ripresa qui c'è il gol non fa in tempo a parare doping qui sfiora ancora bolis qui la parata di doping che si salva ma nulla può alla fine la dinamo cerca in tutti i modi di non far entrare tarallo che però tira come sempre dalla diagonale e qui c'è il gol poi secondo e terzo gol nella ripresa che si assomigliano molti tiri imparabili per il 3 a 0 della realtà rallo che rimane a punteggio pieno altro gran bel match quello tra ruopolo e leocomotiv ruopolo va in vantaggio con questa bella conclusione i complimenti anche dell'avversario ancora ruopolo che alla grande chance ma qui un miracolo distinto di locali che poi segnerebbe ma sposta tre omini come segnala l'ottimo arbitro angotti annullato la reazione però nella ripresa cresce sale di livello leocomotiv qui colpisce il palo e alla fine trova il gol del meritato pareggio 1 a 1